Benvenuti al Festival dei Pirati di tutto il mondo. È la Fiera Mondiale dei Pirati! Sono l'unico a essere così forte. Vincerò io! Nessuno sopravvive da solo in questo mare! Falle! One Piece sta abita. Il film dal 24 ottobre al cinema. Il primo film sui Pokémon arrivò in Italia con una storia abbastanza diversa dalla versione giapponese. Nell'originale Mewtwo era un personaggio più morbido, però poi il doppiaggio inglese lo rese un tiranno senza emozioni. Una decisione che non piacque affatto a critici e fan. I produttori ammisero poi di aver preso la decisione sbagliata. Lo sapevate? Per altre curiosità e altri video cliccate qui di fianco a me e noi ci vediamo al prossimo video.